A quel punto, Erwin alzò la mano e fece una domanda. Maestro, mi dica come hanno fatto quegli uomini a sapere che fuori dalle mura non c'è nessuno. Quello che voleva dire è che, dal momento che l'umanità non poteva uscire dalle mura, confermare l'estinzione del resto del genere umano era una cosa del tutto impossibile da fare. Eppure i libri di testo affermano che il resto dell'umanità è stato divorato. I libri dovrebbero essere molto più oggettivi e quindi avrebbero dovuto scrivere che si suppone che siano stati tutti divorati. Stai semplicemente dicendo che non ti piace la frase che hanno usato? Ti sbagli! Dico che l'intenzione è soggettiva! Qualcuno vuole che accettiamo il fatto che non ci sia più nessuno all'esterno delle mura. Tutto qua. Queste sono le intenzioni del governo monarchico che pubblica questi libri. La prendi troppo seriamente. Stai solamente cercando il pelo nell'uovo. All'epoca io ho preso in giro Erwin, ma ripensarci adesso... L'unica cosa da fare è scusarti direttamente con lui.